Ma un'altra cosa ti viene in mente? Un'altra storiellina? Così proprio, d'amblè Un'altra storiellina c'è quello che va ai bar e li fa Il cliente li fa ai barrista Senta lei con quella faccia al culo mi faccia il caffè Il giorno dopo ritorna Senta lei con quella faccia al culo mi faccia il caffè Il giorno dopo ritorna Senta lei con quella faccia al culo mi faccia il caffè Questo si incazza dice Va dal direttore e gli fa Cioè questo mi dice c'ho la faccia al culo Cioè è vero tu ce l'hai Eh ho capito però me lo devi dire Vabbè dice se te lo ridice Torna da me eh Perché il giorno dopo il barista l'è lì con la cannuccia a bere Rientra il cliente e li fa Senti te Quando ti ha più di fatti i cristeri fammi un caffè Insomma Gli ha voluto dare di faccia al culo in tutti i modi Gli ha voluto dare di faccia al culo in tutti i modi Gli ha voluto dare di faccia al culo in tutti i modi